Io, Leonardo, un giorno conoscerò ogni cosa e saprò dominare tutte le arti che aprono all'uomo le vie dei grandi segreti dell'universo. Lo corpo nostro è sottoposto al cielo e lo cielo è sottoposto allo spirito. Questa era l'arte in Italia. 500 anni fa grandi opere ed incantevoli capolavori arricchivano il nostro panorama artistico italiano. Ma lui, come il suo affermato talento, spiccava tra i tanti. Al di là del mito rimane l'immagine di un uomo libero. Un uomo che dedicò tutto il suo ingegno ad una vana ricerca. Svelare i misteri dell'universo. Una volta che abbiate conosciuto il volo, camminerete sulla terra guardando il cielo. Perché là siete stati e là desidererete tornare. Geologia, anatomia, astronomia, urbanistica, botanica, idraulica, meccanica. Nessun campo sfugge alla sua insasiabile curiosità. Tra medioevo e rinascimento. Leonardo da Vinci. Il genio dell'umanità. Dall'8 dicembre al 20 gennaio. Area museale ex stack in piazza Matteo di Catanzaro. Il genio dell'umanità. Il genio dell'umanità. Molto da Vinci. Mostra di Leonardo da Vinci. L'evento dell'anno da non perdere. Leonardo da Vinci, il talento di un genio. Leonardo da Vinci, il genio dell'umanità. Il genio dell'umanità.